Come ti sembra questa moto? Questa moto per me è fantastica perché credo che sia l'ottimo compromesso tra la moto alla pista e la moto alla strada. Come ciclistica come ti sembra? Ciclistica secondo me come ho detto prima da pista ti dà la possibilità di poter sfruttare un 1000 però ti dà anche la possibilità di poter ragionare anche su un 1000 da strada cosa che non è molto facile specialmente per i tipi di biker che ci sono oggi che credono che guidare un 1000 sia qualcosa di eccessivamente facile quando in realtà quando apri troppo in curva e non hai un buon controllo dell'elettronica sai subito per terra. Poi soprattutto dopo le ultime modifiche, per esempio questa moto è da 20 anni che è sul mercato CBR 1000, Fireblade e quest'anno hanno migliorato l'on-off in curva. Sai cos'è? No. Praticamente quando tu chiudi il gas in curva e lo riapri questa moto dà meno scossoni esattamente quello che appena detto. Quindi controlla l'erogazione dei cavalli in curva. Esatto. E' perfetto. Esattamente. Perfetto. Allora io ti ringrazio. Ci mancherebbe grazie a te. Ciao. Ciao.